Tracce di passato in nuove eleganti espressioni di materia. Imola 1874 sprigiona la forza decorativa di immagini, colori, citazioni, frammenti di una grande tradizione ceramica, inondandoli di luce. Superfici mosse, dinamiche, a struttura ondurata, sempre cangianti, giocate su colorazioni forti ma dai toni sfumati che rilasciano profondità. L'elegante lucentizza dello smalto esalta ed amplifica il movimento degli accostamenti, regalando piacevoli vibrazioni di materia. Imola 1874, con la sua struttura impressa a stampo, riporta a nuova vita i frammenti di un marchio storico, così come i decori declinano e danno nuova luce alla tradizione decorativa delle maioliche degli anni 30, 40 e 60. Incastonati casualmente nelle superfici a tinta unita, come elementi preziosi o con effetti di tessitura a tappeto, sono simboli cromatici della più grande espressione mediterranea. L'essenza del bianco luminoso ha contrasto con 5 colorazioni intense, nel formato tradizionale 12x18 cm, in bicottura. La nostra tradizione diventa nuova essenza degli ambienti residenziali.